Si terrà sabato 1 febbraio alle 20.30 nella Basilica di San Paolo Maggiore il concerto conclusivo per le celebrazioni del centenario dell'Associazione Alessandro Scarlatti. L'evento, dal titolo Altricento, è organizzato con il sostegno dell'assessorato alla cultura del comune e vedrà protagonista l'orchestra barocca dell'Associazione diretta da Leonardo Muzzi. Presentato in sala giunta, il concerto ad ingresso gratuito vuole rendere omaggio al suo compositore Alessandro Scarlatti e a Joan Sebastian Bach, uno dei padri assoluti della musica europea. Un concerto in realtà conclusivo di un mese di tantissimi eventi e in realtà anche di una mostra molto interessante che celebra appunto il centenario dell'Associazione Scarlatti. Un'associazione che in realtà è una vera e propria istituzione della nostra città, lo è fin dal tempo della sua fondazione. Ha attraversato un secolo complicato, un secolo pieno di contraddizioni e durante questo secolo ha rappresentato per la nostra città un vero e proprio patrimonio culturale e soprattutto una capacità di diffusione della grande musica europea, devo dire, senza pari. Per cui siamo molto contenti non solo di celebrare questo centenario in sala giunta ma anche di sostenere concretamente il concerto del primo febbraio appunto dedicato a Bach e al maestro napoletano, parli il mitano d'origine ma insomma maestro della scuola napoletana Alessandro Scarlatti.